Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui e raccontarvi arte e intelligenza artificiale. Per prima cosa mi presento, sono Rebecca Pedrazzi, sono in primis una storica dell'arte, giornalista e direttrice di Notizia Arte e autrice del libro Futuri Possibili Scenari d'Arte e Intelligenza Artificiale, edito con Iacabuc lo scorso dicembre. Prima di iniziare ci terrei tantissimo a ringraziare Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti che con la iWeek stanno veramente preparando una settimana straordinaria. Veniamo a noi con Arte e Intelligenza Artificiale. C'è tantissimo da raccontare, questi ultimi anni tra l'altro sono stati degli anni straordinari di ricerca, di progetti pioneristici. Dall'innovativo Museo del Futuro di Dubai che è stato inaugurato pochissimo tempo fa, siamo nel febbraio 2022, che fonda la sua filosofia sulla tecnologia, la braccia in un certo senso, fino agli artisti che con algoritmi ma anche robot creano oggi opere d'arte. Quindi diamo uno sguardo a come oggi viene utilizzata l'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte e della cultura. Faremo un focus sui musei iniziando tra l'altro con una frase a me carissima. È una frase che ha detto il direttore dell'ICOM, Peter Keller, e ci porta subito nella dimensione dello stato dell'arte oggi in questo mondo della cultura, nel mondo museale. I musei devono reinventarsi, devono diventare interattivi, audience focus, community oriented, adaptable e mobile. Quindi il museo, questa è una frase detta tra l'altro nel 2019, oggi più che mai i musei si aprono, aprono le loro porte, quindi da questa dimensione un po' di scrigno storico, di custodi della nostra cultura, aprono le loro porte anche in una dimensione on life e quindi in questo senso si devono in un certo senso reinventare. E quindi i musei oggi cosa fanno? Guardano sicuramente alle nuove tecnologie. Ci sono dei musei che guardano al futuro perché evidentemente sono musei recentemente costruiti, è il caso del Das Futurium di Berlino, un museo che è stato costruito nel 2019 e la domanda che si pone questo museo è how do we want to live? Quindi un museo che fonda diciamo la sua essenza proprio su questo interrogativo, come vogliamo vivere? Allo stesso modo anche il Museo del Domani di Rio de Janeiro si presenta proprio come a singular museum in search of plural future, quindi un museo che ci racconta la nostra storia nelle sue sale e ci accompagna alla scoperta delle nuove tecnologie. Tra l'altro in questo museo c'è un bellissimo chatbot, io purtroppo non parlo oggi di, non faccio un focus sui chatbot, ma è un tema che verrà largamente esposto durante la iWeek. I chatbot nell'arte sono sicuramente degli strumenti straordinari. Al Museo di Omagna c'è un chatbot che si chiama Iris++, è stato fatto con l'IBM Watson e è un chatbot che fa domande e alla fine del percorso di visita, quando il visitatore si interroga su questo percorso intrapreso verso un futuro possibile, può interagire con un chatbot iper moderno ed essere anche indirizzato ai programmi che più gli sono interessati, quindi che sia sostenibilità, che sia l'ecologia, eccetera. Il Museo del Futuro di Dubai, adesso facciamo un piccolo focus su questo museo straordinario. Sono tre musei, questi di cui vi ho parlato, che sono nati adesso, il più recente è il Museo del Futuro di Dubai e il Museo di Rio de Janeiro, mi sembra che sia del 2015-2016. Il Museo del Futuro ci porta subito in una dimensione del futuro, è un museo che utilizza le ultimissime tecnologie dalla realtà virtuale a quella aumentata, intelligenza artificiale tantissima, ma anche tutti gli sviluppi più recenti della robotica per indagare proprio l'interazione uomo-macchina. C'è una bellissima frase che accompagna il visitatore che entra nel Museo del Futuro che è «To reimagine the future, we must be open to new possibilities». E in realtà è proprio questo il senso dell'intelligenza artificiale applicata al mondo dell'arte e della cultura. Ci sta presentando delle nuove possibilità per interagire, per fruire delle nostre collezioni, per amplificare anche l'engagement del percorso di visita. Questo è l'occhio. Il Museo del Futuro è un occhio che guarda al futuro, però non ha la parte interna perché è qualcosa che va ancora riempito. E qua vi ho riportato quelle bellissime tre frasi, quelle che vedete su questa architettura futuristica e sicuramente ecosostenibile, come sono gli altri due musei che vi ho presentato, guardano al futuro e dice «Il futuro non aspetta, il futuro si può progettare e costruire oggi». Sono le tre frasi che vediamo scritte fuori da questo museo, dello Mohamed bin Rashid al-Maktoum, che è il vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Ma facciamoci questa domanda. Abbiamo visto dei musei, diciamo appena realizzati, ma i musei di oggi che cosa fanno e che cosa possono fare con l'intelligenza artificiale? Allora, parlando di musei, gallerie e luoghi d'arte, l'intelligenza artificiale è e può essere largamente impiegata. Molto spesso è una, passatemi il termine, tecnologia che non vediamo. A parte i robot, che sono sicuramente delle presenze tangibili, o un chatbot, se lo troviamo sopra un totem, tutto quello che è l'intelligenza artificiale è qualche cosa utilizzata dietro le quinte, che oggi però ci permette veramente di fare cose straordinarie che fino a pochi anni fa avevamo solo immaginato. Catalogazione e ricerca. È uno dei, diciamo, settori di grandissima espansione. Qui l'intelligenza artificiale è veramente uno strumento, un alleato. Vi farò dei focus su questo tema, perché a mio avviso è uno dei settori più interessanti in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale. La robotica, altro tema in sviluppo, il social network. Dicevamo prima con Peter Keller che i musei devono essere più orientati verso la community, mobile. Ecco, per omaggiare Luciano Floridi, che sarà la iWeek, siamo tutti in una dimensione on-life. E anche i musei, aprendosi al loro pubblico, hanno, diciamo, implementato o iniziato ad utilizzare i social network. In particolare Instagram, che è la piattaforma, diciamo, d'adozione per tutto quel mondo legato alla cultura, comunque al visual art. Abbiamo i chatbot, io qui non ho possibilità di approfondire, lo farete sicuramente voi questa settimana, ma sono assolutamente degli strumenti straordinari applicati al mondo dell'arte e della cultura. Vi facevo prima l'esempio di Iris, ma è anche il chatbot che può indirizzare il visitatore sul sito del museo a fare l'acquisto del biglietto. E poi c'è l'organizzazione, ci sono tutti quei programmi che non vediamo, ma che servono, diciamo, a ottimizzare il lavoro. Sappiamo che l'intelligenza artificiale lavora molto bene quando ci sono tanti dati e può, per esempio, essere un semplicissimo programma che ci regola il flusso dei visitatori, ma sono programmi sicuramente che a livello burocratico, a livello di back office, sono di grandissima utilità anche nei luoghi d'arte e cultura. Allora, perché si parla tantissimo di intelligenza artificiale nel mondo dell'arte? Perché siamo nell'era dei big data, siamo nell'era dei big data e abbiamo la cultura che è stata digitalizzata. Quindi dopo internet, dopo tutto questo sviluppo dei siti internet, la maggior parte dei musei, chi non l'ha ancora fatto, lo sta facendo sicuramente ora, ha digitalizzato tutto il patrimonio delle proprie collezioni, ma sono collezioni a volte vastissime, non pensiamo solo ai piccoli musei, pensiamo anche, per esempio, a uno Smithsonian, pensiamo a dei musei che hanno più di un milione di opere, non solo quelle esposte, ma magari anche quelle che ci sono negli archivi, nei depositi. Fondamentalmente si sono creati dei dataset per l'intelligenza artificiale, anche perché quando navigliamo in internet, noi fondamentalmente abbiamo la funzione Google, la ricerca ottimizzata, lavoriamo tutti noi giornalisti per ottimizzare gli articoli SEO e farli uscire tra i primi. Ecco, per quanto riguarda in realtà un patrimonio digitalizzato, la funzione Google non esiste, perché è diverso una collezione digitalizzata dall'accesso di internet. E qui l'intelligenza artificiale crea veramente questi algoritmi straordinari, permettono di studiare, catalogare, esplorare e creare interconnessioni semantiche. Vediamo degli esempi di successo. Tre esempi di successo. Uno sicuramente ci presenta subito un lato straordinario di utilizzare algoritmi all'interno delle collezioni ed è la velocità. Il Museo d'Arte Nazionale di Copenhagen nel 2019 ha messo online la sua collezione. Una collezione molto grande, 40.000 opere e sono state suddivise in categoria grazie all'intelligenza artificiale. E qui il nostro responsabile del Museo d'Arte Nazionale di Copenhagen, sezione digital, ci dice con l'intelligenza artificiale possiamo portare a termine il lavoro rapidamente in modo da poterci concentrare su compiti più complicati e creativi. Sottolineiamolo, l'intelligenza artificiale non va a sostituire il lavoro dei curatori, di tutti quei professionisti che sono nella parte del back office di un museo, ma è un supporto straordinario. Io ho lavorato tanto nel mondo, essendo una storica dell'arte, anche nella parte del collezionismo come art advisor, quando arrivavano collezioni che superavano le 100 opere d'arte, si trattava di un lavoro assolutamente molto impegnativo. Qua stiamo parlando di 40.000 opere. Cresciamo col numero delle opere e andiamo a un esempio straordinario ed è il Met Metropolitan Museum. Molti musei hanno messo a disposizione di pubblico dominio la loro collezione. Lo ha fatto il Met. Il Met ha una collezione veramente vastissima. Stiamo parlando di 375.000 immagini nel 2017. Oggi siamo arrivati a quasi 500.000 immagini di opere d'arte. E le ha rese di pubblico dominio, liberamente disponibili, quindi è il Creative Common Zero. Il Met si è fatto una domanda, essendo un museo d'avanguardia, come la tecnologia ci può aiutare a creare connessioni e anche permettere ai nostri visitatori, ai nostri utenti virtuali, di fare un certo senso delle esperienze, di conoscere meglio la nostra collezione. Allora, esempio molto virtuoso, ha organizzato una maratona di idee, una sorta di call to action al quale hanno aderito veramente tanti ingegneri informatici, molti giovanissimi. E qua siamo nel 2018. Questa call to ideas è stata organizzata dal Met in collaborazione con Microsoft e il Massachusetts Institute of Technology. Ha dato luogo, in realtà, delle applicazioni realmente straordinarie. La simpaticissima artwork of the day, per esempio, che ogni giorno, visitando la collezione del Met Online, ti permetteva di avere un approfondimento sull'opera del giorno. In un certo senso hanno, diciamo, migliorato moltissimo la fruizione, anche con un occhio di riguardo all'engagement, perché è sicuramente importantissimo approfondire e studiare le opere d'arte, ma anche questo, diciamo, edutainment, questo lato un po' ludico, di sicuro serve ad affezionare anche i più giovani, in un certo senso. Ecco, questo è un esempio di successo, sicuramente, che piace tantissimo a noi storici dell'arte. Sempre il Met, in collaborazione con Microsoft, ha realizzato un progetto straordinario Art Explorer. Fondamentalmente, se io seleziono un'opera d'arte dal mito Open Access, per esempio qua c'è un Vincent Van Gogh, Gli Olivi, un'opera del 1889, grazie all'intelligenza artificiale, che lavora benissimo per ricerca con immagini, pattern e similarità, mi vengono suggerite delle opere, che sono simili, o per stile, o per soggetto, e questo è veramente uno strumento straordinario. Io spero che anche i giovani capiscano la potenzialità di uno strumento come questo, perché fare ricerche, trovare interconnessioni tra opere d'arte, è sicuramente un lavoro complesso. Prima lo facevamo sui libri, poi lo facevamo su internet, però ovviamente adesso abbiamo tutto il nostro patrimonio digitalizzato, e qua vediamo per esempio che l'applicazione suggerisce, l'ultima opera in basso a destra sono i cipressi di Van Gogh, ma ci suggerisce anche un'opera indiana, e anche la vista dalla finestra dell'artista Grove Street di Bloom. Quindi sono delle interconnessioni a volte con le opere, ma anche con gli artisti, che possono sicuramente sfuggire. Qua c'è un knowledge graph, qualcosa di straordinario, il potere dell'intelligenza artificiale, it can detect patterns not readily noticed by humans, questo lo scrive il Metropolitan. E questi knowledge graph sono veramente uno strumento di ricerca straordinario oggi per tutti i ricercatori, i professionisti del settore. Pensiamo a chi vuole organizzare ad esempio una mostra incentrata su la natura in Van Gogh. Si possono veramente aprire delle ricerche che prima d'ora non avevamo notato, magari interconnesse con paesi lontani. E proseguiamo con gli old masters, perché una delle domande che molto spesso mi fanno è, bene, l'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte è comunque sempre relegata comunque alle opere d'arte contemporanee. Non è assolutamente così. Questo è un esempio straordinario di che cosa può fare l'intelligenza artificiale intesa come strumento per un'opera d'arte antica. Quella che vedete è indubbiamente uno dei capolavori della storia dell'arte. Siamo di fronte alla Ronda di notte di Rembrandt, un'opera del 1642, ed è un'opera veramente colossale, perché misura tre metri e mezzo per oltre quattro metri. Quindi, se siete andati a Risk Museum, dove è ubicata questo straordinario capolavoro, sarete stati inondati dalla luce di questa monumentale opera d'arte. Ecco, questa opera monumentale sì, ma è arrivata a noi con delle parti mancanti, nel senso che era come se fosse stata tagliata la cornice. Noi non sappiamo il motivo, fatto sta che oggi l'opera d'arte di Rembrandt non è integra. Il Risk Museum, che è un museo oltretutto che è un meraviglioso museo che conserva degli old masters straordinari, ha fatto Operation Nightwatch, un straordinario lavoro di conservazione e valutazione dedicato proprio alle opere di Rembrandt. E cosa hanno fatto? Hanno ricostruito le parti mancanti del dipinto di Rembrandt con l'intelligenza artificiale. Come hanno fatto? Adesso vi faccio vedere la slide successiva, dove si vede meglio, qua ci sono due persone, si vede che si sta attaccando comunque un pezzettino di cornice in più. Allora, eccolo qua. Lì si vedono bene un attimino di focus al lavoro di integramento dell'opera d'arte. Fondamentalmente c'era una copia del grandioso dipinto di Rembrandt e è stata addestrata all'intelligenza artificiale a imparare lo stile di Rembrandt. e questo ha permesso poi di ricostruire, grazie all'intelligenza artificiale, oggi possiamo ricostruire la parte mancante. E infatti il Senior Science di Risk Museum ci dice grazie all'intelligenza artificiale possiamo ammirare così da vicino il dipinto originale e vivere l'effetto che avrebbe fatto. Di sicuro ha una qualità compositiva straordinaria. e questo è stato fatto oltretutto nel rispetto del dipinto originale, cosa da non sottovalutare oggi. Oltretutto il Risk Museum, dicevo, un museo che ha delle opere straordinarie, si sta legando tantissimo alla ricerca con nuove tecnologie e con intelligenza artificiale. Adesso spostiamoci su un'altra tematica. Allora, i robot nei musei. Proprio l'altro giorno in realtà ho fatto un sondaggio perché stavo preparando questa tavola rotonda chiedendo alla mia community cosa ne pensate dei robot nei musei. Devo dire che le risposte sono state all'85% molto negative. forse perché in Italia poi non abbiamo questa abitudine a vedere i robot nei musei e forse anche perché pensiamo che possano in un certo senso sostituire il lato umano, le nostre guide. In realtà non è assolutamente così. I robot nei musei in un certo senso sono da intendere come un supporto sicuramente. Quali sono i robot che troviamo nei musei oggi? Sono le guide robotiche, quindi il pepper che vedete nell'immagine storico che accompagnano il visitatore alla scoperta delle collezioni possono dare informazioni molto pratiche. Ecco, in questo senso è un robot che non va a sostituire la guida ma ci può dare informazioni aggiuntive che molto spesso possono mancare all'interno del museo. Nelle mostre troviamo tantissime didascalie e nei musei un po' meno. Proprio in questo sondaggio mi dicevano noi immaginiamo i robot soprattutto nei musei di arte contemporanea. Ecco, io in realtà immagino di più i robot nei musei d'arte antica perché innanzitutto sono dei musei che non possono rinnovare più di quel tanto il loro percorso espositivo perché molto spesso sono ospitate in strutture antiche quindi non si può assolutamente stravolgere un sacro edificio museale antico bisogna averne rispetto. Ma avere un robot magari che integra il percorso di visita magari può essere utilizzato per intrattenere soprattutto i più giovani oggi si parla tanto di edutainment per i giovani quindi studio e coinvolgimento studio e gioco sicuramente può essere una scelta vincente. E poi abbiamo i robot teleguidati che gioco forza durante la pandemia abbiamo iniziato a conoscere di più. Al Mudec per esempio si è utilizzato tanto DoubleTree utilissimo oltretutto perché permette di fare le visite teleguidate da remoto ma permette anche a persone che non possono essere presenti di interagire. Per esempio appunto parlando di robot era andata la mostra al Mudec sui robot uno dei curatori non era presente e si è collegato con un robot teleguidato. Innanzitutto si è messo alla mia altezza cosa molto apprezzabile e poi mi ha accompagnato nella stanza che aveva, nelle due stanze che di cui diciamo aveva si era occupato della curatela raccontandomi quello che era esposto. Quindi sicuramente la sua funzionalità è doppia. Fornire informazioni aggiuntive oltretutto ricordiamo che alcuni di questi robot hanno una cosa utilissima hanno uno schermo davanti quindi se io mi trovassi per esempio davanti alla primavera di Botticelli e volessi approfondire un pochettino di più alcuni dei fiori invece di andare sul mio cellulare posso magari sfruttare un robot con un programma dedicato che mi permette di approfondire il lato fiori della venere di Botticelli. Mi vorrei dilungare tantissimo sui robot dei musei ma non voglio farlo perché in realtà il mio focus adesso con la robotica vuole essere questo cioè di farmi una di portarvi ad una riflessione una strada per l'inclusione nel mondo dell'arte sicuramente oggi parliamo tantissimo di inclusione nel mondo dell'arte perché abbiamo un supporto tecnologico che qualche anno fa non l'avevamo disponibile non l'avevamo ancora creato ovviamente però il mio focus è una riflessione perché quando pensiamo di inclusione e accessibilità in musei pensiamo proprio all'accesso al museo nel senso di per esempio intervenire sulle barriere architettoniche per permettere anche il passaggio delle carrozzine a persone disabili in realtà ci sono è un numero tra l'altro che fa impressione persone disabili che al museo non ci possono proprio accedere parliamo di malati di Sla parliamo di tetraplegici parliamo anche delle persone che magari sono anziane si trovano nelle case di cure noi sappiamo dati alla mano che la vita sociale e anche la visita in un museo che rientra nel gruppo di socialità dà un plus alla qualità della vita e scrivendo il libro avevo avuto il piacere poi di conoscere Pasquale Fedele che ha fondato Brain Control Avatar fondamentalmente è proprio un alter ego robotico che può essere teleguidato e qui ci siamo ma anche in modalità Brain Computer Interface quindi interpretare le onde cerebrali che generano il movimento immaginario o anche il movimento con il puntatore oculare direi che una bellissima attenzione dovrebbe essere proprio portata a questi progetti d'avanguardia e quindi aprire sempre l'approfondimento su tutti questi progetti di inclusione per i luoghi d'arte e cultura e ecco lo dico sempre quando la tecnologia apporta migliori nelle nostre vite si chiama progresso ricordiamoci quindi anche del tema dell'inclusione sociale per i luoghi d'arte e cultura e adesso passiamo agli high artists di cui vi parlerei per ore fondamentalmente ma il tempo è avaro e quindi cercherò di fare un piccolo focus su questo straordinario movimento artistico in realtà che da qui a qualche anno sta portando ai nostri occhi dei progetti pioneristici straordinari allora ho ripreso l'altro giorno una bellissima frase di Ugo Foscolo l'arte non consiste nel rappresentare cose nuove bensì nel rappresentare con novità e ho provato a pensarlo un po' connessa con gli high artists e in realtà gli high artists oggi portano tantissima novità rappresentano sicuramente con novità delle cose nuove ma c'è un'innovazione veramente straordinaria perché abbiamo l'unione della tecnologia con l'arte e stiamo vedendo delle sperimentazioni artistiche molto interessanti siamo fondamentalmente il 23 ottobre 2018 quando la Casa d'Aste Christis presenta un'opera che verrà venduta per oltre 400 mila euro è l'opera Portrait of Edmond Bellamy ed è un'opera creata anche con l'intelligenza artificiale con l'utilizzo dell'IA pochi mesi dopo nel 2019 ci sarà Mario Klingemann che presenta in ASSA da Sotheby's questa volta un'opera straordinaria che si chiama Memory on Passes by One che è l'opera che lì vedete che in realtà è un video loop infinito i fari furono puntati sugli high artists che in realtà lavoravano già da molti anni ma queste due vendite sicuramente portò molte riflessioni e la domanda fu chi è l'autore, l'artista o l'algoritmo? rispondiamo subito che l'autore di queste opere è l'artista quindi un piccolo focus sulla creazione la creazione realizzata da una macchina da un algoritmo necessita del processo creativo dell'artista tutto parte dall'idea creativa dell'artista il fattore umano per creare un'opera d'arte con intelligenza artificiale è proprio la condizione sine qua non per la creazione di un'opera d'arte un algoritmo senza l'umano non può creare un'opera d'arte mentre un umano senza l'algoritmo può creare un'opera d'arte oggi non abbiamo ancora la super intelligenza credo che su questo siamo tutti d'accordo quindi una gana non ha il libero arbitrio quindi la risposta sicuramente è che il creatore di un'opera d'arte è un artista e che cos'è allora l'intelligenza artificiale oggi? l'intelligenza artificiale è un nuovo strumento è anche un collaboratore pensiamo anche all'interazione uomo-robot che stanno sviluppando alcuni artisti o braccia robotiche per creare sculture e qua c'è una bellissima frase di Mai Taika che avevo intervistato che ci dice non fu l'artista a inventare l'intelligenza artificiale fu lo scienziato ma infine ecco un nuovo strumento qualcosa di nuovo da utilizzare e l'artista lo ha sperimentato perché? perché oggi l'artista vive in un'epoca tecnologica e questi sono gli strumenti che ha a disposizione e parlando di i-artist veramente si potrebbe fare degli approfondimenti interessantissimi ma quello che ci terrei a passarvi come messaggio è che stiamo di fronte veramente a un nuovo movimento artistico una nuova estetica una produzione tra l'altro vastissima e con delle idee di partenza quell'idea creativa quell'euro che vi dicevo che ancora oggi la macchina non ha ci porta veramente a scoprire degli scenari realmente interessanti abbiamo per esempio quella medusa viola che vedete è l'astrattismo sintetico di Dribnet Tom White abbiamo anche la bellissima scultura è un David è un David 3.0 che prende forma da un algoritmo il Vox to Vox creato da Mauro Martino che oltre ad essere uno straordinario i-artist è il fondatore dell'IBM Research Lab del MIT in Massachusetts e ha creato una bellissima scultura ricercando i punti cardine quindi l'essenza del David poi invece qui alla mia destra non so se siete proiettati al contrario vedete Quaiola Quaiola veramente è un'artista che sto approfondendo tantissimo in questo periodo modernissimo riprende tanto l'idea dell'opera d'arte antica e da lì parte la sua idea per tradurla a livello diciamo proprio di in inedite forme in inedite creazioni modernissime che portano proprio un'attenzione che parte dall'antico questa era la dorazione di Botticelli se voi prendete il dipinto ritrovate proprio tutto il cromatismo che qui in questo pezzettino di opera vi ho messo e qui vi ho riportato una frase delle frasi di Refik Anadol Refik Anadol è un media artist turco classe 1985 e lui ci porta veramente alla scoperta di un utilizzo degli algoritmi straordinario crea delle architetture post digitali veramente imponenti lui parte sempre dall'utilizzo di data setter ricchissimi e vastissimi si fa in un certo senso un vuole rienterpretare vuole offrirci una una nuova connessione interpretazione di tutta la nostra storia e cultura leggiamo queste frasi perché sono molto interessanti per me l'arte riflette la capacità di immaginazione dell'umanità frase potentissima l'arte riflette la capacità di immaginazione dell'umanità se spingo la mia bussola al limite dell'immaginazione mi ritroverò ben connesso con le macchine con gli archivi con la conoscenza e le memorie collettive dell'umanità come molti creatori artisti designer mi sento come se stessi cercando di trovare modi nuovi modi per collegare i ricordi con il futuro per concludere il mio speech che ovviamente ho sforato un pochettino ma c'è tantissimo da raccontare io ho scritto un libro di 400 pagine ma avrei potuto fare edizione 1, 2, 3, 4, 5 la ricerca continua vi lascio un video perché quando si parla di opere d'arte bisogna sempre vederle ed è Melting Memories machine hallucinations scusate e praticamente è una reinterpretazione di 100 mila milioni di immagini di New York una reinterpretazione veramente positiva vi lascio il video un pochettino un pochettino un pochettino a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.